Alla luce dell'attualità che è emersa in questi giorni, ma è una notizia che ormai sapevamo da tempo, c'è questo grande quesito per il duplice delitto di Scopeti. Fu consumato la domenica sera o il sabato? Tu che idea ti sei fatto? Noi, dico noi perché lavoravo allora assieme a Pino Rinaldi, di chi l'ha visto, pubblicammo questa notizia, che cioè il delitto era del sabato ed era in maniera scientifica dimostrato dall'esame delle larve di mosche sui cadaveri, la pubblicavano figurati nel 2002, però allora l'indagine era aperta, ora è chiusa, ma allora era aperta e parecchi giornali, media, anche quelli di quali lavoravo si resero conto, secondo me, dell'effetto devastante di questa notizia, perché non è solo il fatto di cambiare una data, la conseguenza è che chi la disse questa cosa, e cioè l'oddi, mentì e se mentì su quello c'era da dubitare di tutto e lui non ne mentì, lui non aveva alcun interesse a mentire, più che mentire lui si allineò o fu fatto allineare alla versione ufficiale della polizia, per esempio dopo la soluzione di Pacciani e però la condanna dei compagni di Merenda, Lotti e Vanni, si diceva ma come può essere innocente uno che ha dei complici, adesso però si deve dire ma come fa ad avere dei complici uno che è innocente, voglio dire se Pacciani è innocente, perché se il delitto del sabato lui ha tutti gli alibi di questo mondo, era una festa dell'unità, vuol dire che anche Vanni e Lotti non erano complici suoi. Ecco tu hai in questi anni lavorato molto su questo caso e hai una tua idea, un tuo scenario particolare, alla luce anche di questi possiamo dire aggiornamenti, tu sei sempre fermamente convinto che questo gruppo fu innocente, non fu diciamo il protagonista di questa striscia di sangue? Sempre stato convinto, ne rimango ancora, in fin dei conti questo anche se di poco conferma ulteriormente l'ipotesi del serial killer solitario, perché? Perché anche questo delitto è stato commesso di sabato, come tutti gli altri, o il sabato o alla vigilia di un giorno festivo e questa è una necessità che può avere una singola persona, non un gruppo, come tante altre cose poi lo dimostrano insomma, no, sono convinto che opera di un solo assassino.